Massimo Introvigne, dopo la maturità classica conseguita presso l'Istituto Sociale di Torino, frequenta contemporaneamente la Facoltà di Filosofia della Pontificia Università Gregoriana di Roma, dove consegue il baccellierato nel 1975, e la Facoltà di Legge dell'Università di Torino, dove si laurea in giurisprudenza. La sua carriera accademica si orienta invece dalla filosofia a sociologia del diritto e dai temi politici a quelli legati alla presenza di religioni minoritarie e nuovi movimenti religiosi, ai rapporti fra religione e società. In questo settore ha pubblicato una quarantina di volumi e oltre ai 100 articoli su riviste scientifiche internazionali. Nel settore degli studi sulle religioni, nel 1988 fonda con altri il CESNUR, Centro Studi sulle Nuove Religioni, oggi la maggiore istituzione europea nel settore degli studi sulle minoranze religiose, di cui è tuttora direttore. Professore Introvigne, il fenomeno della New Age a quale esigenza dell'uomo risponde? Bisogno di spiritualità o di fuga intimista? Oggi il fenomeno della New Age non è neanche più tanto nuovo perché nasce nel 62, l'anno prossimo compirà 50 anni. Quando è nato rispondeva a un'esigenza di spiritualità da parte di una generazione, quella degli anni 60, che per una serie di ragioni complesse aveva, in una parte significativa, abbandonato le religioni tradizionali. E quindi si cercava una spiritualità light, una spiritualità non troppo impegnativa. È giusto la sua domanda. Si voleva parlare sempre e solo di spiritualità, mai di religione o di chiesa, e quindi una spiritualità che non chiedesse nulla, che non impegnasse, che pilucasse in modo sincretistico in tutte le grandi tradizioni religiose dell'umanità e che anche presentasse tutto in un modo molto ottimistico. Lo stesso nome New Age dice riferimento a un evo nuovo, un evo di felicità, senza guerre, senza malattie, senza fame, che attraverso la trasformazione praletaria dalle coscienze sarebbe dovuto arrivare. Naturalmente questo è il New Age delle origini, è il New Age degli anni 60. Oggi le cose sono molto diverse, perché dopo 50 anni che si promette il regno della felicità, questo regno non è arrivato. Basta aprire le finestre e tutti ce ne accorgiamo. E quindi il New Age non è scomparso, ma è passato dalla terza alla prima persona singolare, e cioè non si promette più una trasformazione planetaria, ma si dice che io personalmente potrò entrare nel mio piccolo New Age privato grazie ad una serie di tecniche di benessere. Quale antropologia emerge dalle correnti religiose riconducibili alla New Age? Ma il New Age si picca molto di dire di non avere una dottrina, che è impossibile definirlo, perché è un fenomeno completamente fluido e disarticolato. In parte questa è una moda o una posa. Noi possiamo ricondurre il New Age ad una grande categoria, che è quella del relativismo. Il New Age è una forma moderna di relativismo, un relativismo non della ragione però, ma un relativismo delle sensazioni nella volontà. Tutte le sensazioni sono ugualmente vere, ugualmente valide, purché siano sincere, non ce n'è una più valida delle altre. In uno dei manifesti del New Age il fenomeno è definito come un hot dog ripieno di tutto, cioè tutto va bene, nulla è più vero di altro. Posso dare un altro esempio, una delle nuove medium che operano nel New Age, molto famosa, ormai anche lei non più giovanissima, Ramtha, una signora della costa occidentale degli Stati Uniti, in cui si incarnerebbe lo spirito di un guerriero di migliaia di anni fa, a un certo punto chiede se io dico che Dio non esiste e un altro dice che Dio esiste, chi ha ragione? Tutti danno la risposta sbagliata, fino a che uno viene premiato fra i suoi discepoli perché dà la risposta giusta. Tutti hanno ragione. Questa è una forma di quello che oggi la Chiesa, per bocca di Papa Benedetto XVI, ancora nel suo ultimo libro Gesù di Nazareth, seconda parte, continua a denunciare, cioè il relativismo, l'idea che la verità non c'è o non è importante, che il New Age però ha declinato, non con argomenti filosofici o razionali, ma come un relativismo delle sensazioni. Chiesa cattolica e nuove sette religiose. In molti paesi, soprattutto in Africa e Sud America, i rapporti sono tesi. Quali le possibili vie di dialogo? Io credo che noi dobbiamo distinguere perché in Africa, in America Latina, non è tanto il New Age. Il problema della Chiesa cattolica, quelle che sono chiamate la sectas in spagnolo, sono nuove, ultime, marginali, ma marginali teologicamente, non per i numeri che sono di decine di milioni, declinazioni del protestantesimo, soprattutto nella sua fase pentecostale. Noi conosciamo queste sectas, se vogliamo chiamarle così, perché la maggior parte dei giocatori di calcio latinoamericani che vengono da noi e che alzano le braccia al cielo o scrivono io appartengo a Gesù, sono in realtà protestanti pentecostali di questa ultima generazione, che spesso è definita settaria dai cattolici perché ha un proselitismo molto aggressivo e perché difficilmente si lascia integrare nel dialogo ecumenico. Tuttavia bisogna dire che molta acqua è passata sotto i ponti rispetto alle origini del pentecostalismo che sono negli anni immediatamente precedenti alla Prima Guerra Mondiale e oggi accanto a denominazioni molto aggressive nei confronti della Chiesa cattolica ve ne sono altre che sono disposte a dialogare. Vediamo in fondo che anche alcuni di questi calciatori magari frequentano vescovi cattolici pur rimanendo saldamente protestanti e sono disposti a un dialogo. Quindi questo è il problema dei paesi, diciamo, del terzo mondo dove il New Age, che in fondo è una religiosità per ricchi, non ha poi attecchito così tanto come da noi. Da noi il problema è il New Age che è un problema più difficile perché erige una sorta di muro di gomma che rende molto difficile il dialogo perché questo relativismo assoluto dice sì sì avrete ragione anche voi nel vostro mondo però nel mio mondo ho ragione io. Quindi qui il dialogo è difficile e con l'ideologia certo è sempre possibile il dialogo con gli individui proprio a partire da una ricostruzione umile di quell'idea di verità che di nuovo il Papa mette al centro del suo magistero e che in quella bellissima ricostruzione del dialogo che cos'è la verità fra Gesù e Pilato mette al centro di tante profonde riflessioni anche nel libro su Gesù che è stato pubblicato in questi giorni. www.vt42.org